Salve, benvenuti in questa serie di video in cui vengono risolte le tracce relative al concorso A028, relative alla mattina, la prova del 6 mattina, perché come sapete ci sono state le prove 6 mattina, 6 pomeriggio, 7 mattina, 7 pomeriggio, 8 mattina. E quindi all'interno di questa serie di video potete trovare le soluzioni a tutte le tracce, in particolare qui sotto nei commenti vi inserirò i link anche dei video precedenti per permettervi di poter vedere tutte le tracce e vedere anche i miei suggerimenti a come poterle risolvere. Vi ringrazio tanto per la vostra partecipazione, sempre nei commenti lasciatemi una indicazione su che cosa ne pensate e se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Sicuramente verranno anche risolte le tracce della 0,26 e della 0,27. Della 0,41 no, perché semplicemente non ci capisco niente. Grazie. Ok, leggiamo la traccia e poi proviamo a risolverla. Quale delle seguenti affermazioni è vera? In questo caso forse va data una letta veloce a tutte le tracce. Il valore di radice di 2 è un numero razionale estremamente compreso tra 3 settimi e 4 quinti, assolutamente no, è circa 1,44, è un numero maggiore dell'unità, quindi sia 3 settimi che 4 quinti sono minori di 1, è impossibile. E' ovvio che io cerco anche di dare delle spiegazioni che richiedono un minimo di tempo in più, però sicuramente in una retta rientrata dove andiamo a individuare i valori 0,1, sicuramente 4 quinti se non erro è 0,8 e 3 settimi è un pochettino più piccolo di 0,5, quindi lo mettiamo qua. Ma radice di 2 sicuramente si trova dopo l'unità e quindi assolutamente si trova qui e non è un valore compreso assolutamente tra 0 e 1. Leggiamo la seconda possibilità, esiste almeno un numero frazione m su n, con m e n numeri naturali diversi da 0, strettamente compreso tra 3 settimi e 4 quinti, assolutamente sì. Quindi, ricordando quello che abbiamo appena detto, tracciamo la nostra retta orientata, qui c'è lo 0, qui c'è l'1, qui possiamo mettere un mezzo, 3 settimi si trova qui, 4 quinti, che abbiamo detto è 0,8, si trova qui. Io, ad esempio, posso pensare che 4 settimi sia un numero dove m è uguale a 4, n è uguale a 7 e quindi ho un numero m su n che è compreso strettamente tra 3 settimi e 4 quinti. Quindi, assolutamente, questa è la risposta giusta, leggiamo sempre in diretta le altre risposte, non esiste alcuna frazione m su n. Settamente, vabbè, questa è semplicissimo rispondere di no perché se è vera l'una non può essere vera l'altra. Tutti i numeri reali, trattamente compresi tra 3 settimi e 4 quinti, sono necessariamente razionali, no, l'abbiamo appena dimostrato. Quindi, diciamo che per questa domanda abbiamo dato tutte le risposte del caso a tutte le possibilità. Ovviamente, in sede concursuale, il mio consiglio qual è? Quello, siccome non sapete qual è la risposta esatta, partite dalla prima, quindi andate in questa direzione e leggetele dall'alto verso il basso. Se siete sfortunati, quella giusta sarà proprio l'ultima. Però, quando trovate già quella giusta, in questo caso questa, dato che è una questione di tempo, immaginiamo di fare la prova. Leggete questa risposta che io vi leggo rapidamente, no? Il valore radice di 2 non è un numero, quindi, razionale. Mettiamo no, subito dopo si legge questa, esiste almeno una frazione, assolutamente sì, e magari in 30-40 secondi a questa domanda è possibile dare una risposta, anche un minuto. Però, sicuramente, non ha senso, in sede concursuale, andare poi a leggere tutte e dare una spiegazione. Non ha senso, in realtà, dare una spiegazione a nessuna. Dovete cercare, a mente, di darvi la spiegazione di che cosa sia giusto. Una volta che trovate cosa è giusto, andate avanti. Poi, magari, se avete del tempo, ritornate sulla domanda, in questo caso alla domanda 22, e potete modificare la risposta. Questo già è un metodo vincente. Molti colleghi che hanno adottato questo metodo si sono trovati, diciamo, facilitati nei confronti della variabile tempo, che è molto poco. Leggiamo insieme la domanda 23. Si consideri la funzione reale, di variabile reale f di t, uguale a c per 10 elevato alla meno 2t, con c costante positiva, per quale valore di t la funzione di mezza è il proprio valore rispetto al valore assunto per t uguale a 0? Ok, riscritto. Pongiamo che c per 10 alla meno 2t deve essere pari a un mezzo, si deve dimezzare, a c per 10 alla meno 2t. Quindi, sicuramente possiamo andare a semplificare c e c. Usate, se la funzione di mezza significa che questa funzione, la seconda, deve essere la metà, se la rimoltiplico per 2, le due funzioni sono uguali. Anche se, in realtà, nel primo passaggio è indifferente mettere a sinistra o a destra il 2. Poi è importante metterlo... cioè, se una volta si sostituisce t uguale a 0, è importante, insomma, andare a dividere tutto poi per un mezzo. Allora, abbiamo detto che le due quantità, se questa quantità, questa è la quantità, la prima è la seconda. La seconda deve essere la metà della prima, quindi se la moltiplico per 2, riotteniamo la prima. Quindi, per t uguale a 0, allora, c e c li semplifico. Dopodiché il 2 lo porto al primo membro e diventa un mezzo. Vado a sostituire t uguale a 0, quindi 10 elevato alla 0, lo riscrivo. E mi rimane al secondo membro 10 alla meno t. 2, cioè 10 alla 0 è 1, e un mezzo lo riscrivo come 2 alla meno 1. E 10 alla meno 2t lo lascio. Dopodiché mi conviene passare al logaritmo in base a 10, perché qui ho un 10. Allora, logaritmo in base a 10 di 2 elevato alla meno 1 deve essere uguale al logaritmo in base a 10 di 10 elevato alla meno 2t. Ma per la regola del logaritmo, l'esponente può essere portato prima del logaritmo e quindi diventa meno 2t logaritmo in base a 10 di 10 che è 1. E quindi ottengo che meno 2t è pari proprio al logaritmo in base a 10 di 2 elevato alla meno 1. A questo punto meno 1 lo porto fuori, meno e meno si semplificano e mi viene che t è uguale a un mezzo logaritmo in base a 10 di 2. Proviamo a fare anche una verifica. Allora, pongo c uguale a 1, t uguale a 0, perché per qualsiasi... prendo una costante positiva. E se vado a sostituire a f di t, 1 per 10 uguale a 0 è proprio 1. Adesso andiamo a sostituire f, anziché di t, f di un mezzo logaritmo in base a 10 di 2. Otteniamo il posto di c, 1 per 10 elevato alla meno 2 che moltiplica un mezzo logaritmo in base a 10 di 2. Allora, meno 2 e un mezzo si semplifica e diventa meno 1. Logaritmo in base a 10 di 2 rimane tale e 1 per 10 alla meno logaritmo in base a 10 di 2 è proprio un mezzo. E quindi abbiamo ottenuto che per questo valore di t, che è anche questo che abbiamo trovato, la nostra funzione diventa un mezzo si dimezza rispetto al valore di t uguale a 0. Quindi a questo punto, qua a mio avviso, leggere le risposte prima non serve a niente. Bisogna semplicemente porre l'equazione, fare passaggio e trovare il risultato. Io ovviamente ho fatto molti più passaggi e ve li ho anche spiegati. Bisogna poi trovare il risultato giusto e si mette sì alla risposta corretta. Ok, leggiamo la domanda 24. Una spira rettangolare. Quindi possiamo pensare che questa lunghezza sia A, questa lunghezza sia B. E' posto in un campo E magnetico uniforme, infatti tutte le linee di forza, tutti i vettori di forza sono della stessa lunghezza, in modo che il piano della spira sia perpendicolare alla direzione del campo. Infatti vedete che il campo ha questa direzione, il piano della spira si trova su questi altri due assi, quindi è perpendicolare, sicuramente potremmo chiamare X, Y e Z, Z è la direzione del campo elettrico. Se una corrente circola nella spira nel verso rappresentato, che è questo qui, si vede comunque bene, cioè verso antiorario se lo vedo dall'alto, quindi se lo vedo da qui, il campo esercita sulla spira che cosa? Allora, dato che siamo qui per ripassare, intanto dico che secondo me questa domanda è qualcosa che non è relativo a quello che si fa in una scuola media. Comunque, vediamo tutto quello che potrebbe accadere, ma in realtà che non accade. Allora, la forza elettromotrice, per la legge di Faraday, posso aggiungere anche Lenz, è la variazione del flusso del campo magnetico nel tempo. Ma qui non vi è alcuna variazione del flusso del campo elettrico e del campo magnetico, perché il campo elettrico è costante e quindi non vi è alcuna forza elettromotrice che viene generata all'interno della spira. La forza esercitata su ogni pezzetto di filo della spira AB, BC, CD e DA è pari, la forza, all'intensità di corrente per la lunghezza del filo L per il campo magnetico B per il seno dell'angolo che è presente tra B e il verso della corrente. Ok, a questo punto sappiamo che tra I e B B è un angolo che è diverso da zero, anzi di 90 gradi, e quindi sicuramente si formano delle forze. Però sui lati AB, BC, CD e DA, quindi B è perpendicolare alla direzione della corrente elettrica, però agiscono forze complanari con il piano dell'aspira, che sono, rispetto a B e CD, sono due forze complanari uguali in modulo ma opposte inverso, e anche tra CB e AD. Però l'aspira è rigida, quindi non deformabile, e quindi le forze non provocano alcun effetto, quindi non provocano né una forza né una coppia. Diciamo che abbiamo ripassato la forza esercitata su un filo percorso da corrente, la forza elettromotrice, e possiamo dire anche la forza di Coulomb e come si può misurare un campo elettrico. Allora ricordo che la forza di Coulomb tra due cariche elettriche è pari alla costante per il prodotto delle due cariche diviso la loro distanza al quadrato. Il campo elettrico generato da una carica è KQ diviso la distanza al quadrato. Poi si potrebbe dire tanto altro sull'elettromagnetismo, però ovviamente voglio rimanere sempre, cioè voglio approfondire la domanda, ma non voglio allontanarmene troppo. Se poi vi interessa, fatemelo sapere nei commenti, possiamo approfondire l'argomento. Leggiamo l'ultima domanda di questo video, soltanto una delle seguenti equazioni rappresenta il piano cartesiano XY in una parabola che non interseca l'asse della scisse. Qual è? Allora in questo caso potrebbe essere utile partire dalla risposta, perché se osservo questa e questa ma anche questa, abbiamo una parabola quindi y uguale a x più 2 tutto elevato al quadrato provo a risolvere in un metodo non convenzionale rappresenta una parabola che tocca l'asse della scisse solo per x uguale a meno 2 sia quando si annulla questo termine anche se elevato al quadrato y diventa 0. Quindi abbiamo una parabola di questo tipo provo a disegnarvela per x uguale a meno 2 y uguale a 0 e questo sarà l'asse e questa è la nostra parabola. È ovvio che basta traslarla di uno verso l'altro quindi aggiungere un più 1 che ottengo cambiamo colore se io aggiungo il più 1 la traslo verso l'alto e ottengo la medesima parabola però rialzata di 1 e questa parabola sicuramente non interseca mai l'asse della scisse questa sicuramente lo interseca in due punti questa è in un punto solo questa l'abbiamo di questa ne abbiamo parlata ne abbiamo già parlato questo ovviamente ha due soluzioni perché ricordate che una parabola è anche riconducibile ad un'equazione di secondo grado ricordate che si può un'equazione di secondo grado si può riscrivere come x per x meno 1 x per x meno 2 e ovviamente qui questo è riconducibile a questa e abbiamo il delta maggiore di 0 quindi il delta maggiore di 0 significa due soluzioni distinte non coincidenti come in questi casi e quindi sicuramente qui la interseca in più punti non avrei sprecato tempo a fare i passaggi che in ogni caso facciamo quindi y uguale a x quadro più 4 più 4x più 1 otteniamo che y è uguale a x quadro più 4x più 5 e andiamo a valutare il nostro delta quindi è la radice è b quadro meno 4c non passo non passo proprio per trovare x 1 2 che comunque è meno b più o meno la radice di delta meno 4 b quadro meno 4c fratto 2a scusate sono un pochettino stancopito delta e b quadro meno 4c in questo caso il termine b è 4 quindi 4 al quadrato meno 4 per 1 per 5 quindi 16 meno 20 vedete che il delta è negativo ma se il delta è negativo otteniamo una parabola che non interseca mai l'asse delle ascisse bene io penso di aver fatto un video molto approfondito su queste domande anche utile magari per un ripasso quindi non solo per avere la curiosità di come si potevano risolvere questi esercizi che sicuramente a mio avviso non ricapiteranno uguali bensì secondo me è veramente interessante andare a fare delle valutazioni degli approfondimenti intorno ai test d'esame per approfondire e quindi magari accrescere le nostre conoscenze io con questo vi ringrazio vi auguro una buona continuazione di giornata un caro saluto da Francesco Samani